Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare 8 minuti per un impero, un gioco di Ryan Laucat, autore anche di Above and Below, Near and Far e tanti altri giochi d'avventura del genere. Intanto voglio ringraziare la DV Giochi, che ovviamente sono l'editore italiano, per la localizzazione in italiano, per avermene offerto una copia per la recensione. Quindi grazie di cuore alla DV Giochi, grazie Barbara, ed è sempre un piacere e un onore collaborare con voi. 8 minuti per un impero è un gioco veloce, quel classico gioco tascabile alla fin fine, perché tanto vedete anche le dimensioni della scatola, ed è un gioco da 2 a 5 giocatori, quindi non c'è una modalità in solitario, ma anche perché per un giochino del genere non avrebbe senso, dai 12 ai 99 anni, mi piace vedere questa età qui sui giochi, si spera sempre di arrivarci fino a quell'età lì soprattutto, e dagli 8 ai 20 minuti. Questo è un gioco, sì come tempo ci siamo, questo è un gioco che bellino anche nella prima pagina del regolamento c'è scritto un gioco che si spiega in un minuto, e metto subito le mani avanti, preciso subito che non è il mio caso, perché anche se ci vuole un minuto per spiegarlo, io ce ne metterò 15 almeno, sono logorroico, però è un gioco che ci si mette davvero un minuto per spiegarlo, e 20-30 minuti per fare una partita, ed è un gioco bello e divertente, perché alla fin fine abbiamo la mappa del mondo, dove dovremo fare degli spostamenti di risorse, degli spostamenti lì tra molte virgolette truppe e città, e vince il giocatore che guadagnerà più punti, conquistando appunto, sembra un po' una specie di risico anche se vogliamo certi punti, dovremo girare delle carte per vedere cosa andiamo a posizionare, dove lo andiamo a posizionare, le risorse che riceviamo, e alla fin fine ci sarà un conteggio finale, che ci terrà conto delle regioni conquistate, dei continenti conquistati, e si tirerà un punteggio finale appunto per vedere chi sarà il giocatore che avrà vinto, quindi è un gioco competitivo, non è un gioco cooperativo, e non c'è una modalità in solitario, unboxing, scatola piccolissima, cioè praticamente poco più grande della mia mano, e vedete bello il disegno che c'è sopra con questo galeone, perché poi ovviamente ci saranno sia spostamenti via terra che anche spostamenti via mare, ed è molto carino come gioco, questo è davvero ragazzi con la colorazione e il disegno, veramente bellino e impeccabile, della DV Giochi, è il classico gioco portatile, tascabile, tranquillamente, e questo è, io secondo me dove lo mettete lo mettete, fate divertire anche perché, cioè sembra quasi il classico gioco da fan treno durante un viaggio, perché qui veramente vi fate una partita in 20 minuti. Apriamo, regolamento, ma per modo di dire regolamento, perché sono una, che tra l'altro è la pagina principale che ci fa vedere il contenuto più che altro, due, tre, quattro, quattro pagine, tutto regolamento è qua, tra l'altro la parte finale è la conta dei punti, la fine della partita, quindi due pagine e mezzo di regole, tutti quanti i token che ci sono all'interno del gioco, non ce n'è tantissimi, quindi anche da mettere a posto e da conservare si fa veramente veloce e non si rischia di perdere qualcosa, la mappa del gioco, eccola qui, ora poi ve la faccio vedere aperta, un po' di cubettini di legno e tutto il resto, e ovviamente per posizionare le vostre truppe nei vari punti della mappa. una bustina, per conservare tutti quanti i token, e le carte che sono il cuore del gioco. Come detto, si può giocare da due a cinque giocatori, noi nella Fatti Special abbiamo fatto il setup per una partita appunto a cinque giocatori, e in una partita a cinque giocatori dovete prendere tutti quanti i cubetti di un colore, che sono questi qui, noi, io lo sapete, il mio colore preferito è il verde, ho scelto quello, che sono i cubetti delle armate, queste qui, e i tre dischetti invece per le città, che sono queste tre qui. Nella mappa di gioco dovete mettere tre cubetti ciascuno nel punto di partenza, che è questo, dove ovviamente c'è disegnata una città, tutte quante le carte, quindi il mazzo di carte lo mescolate e lo mettete qui da una parte, mettetelo sotto la mappa dove avete spazio del tavolo, se giocate in meno di cinque giocatori, le carte che in alto a destra hanno il simbolo di cinque giocatori, le andate a togliere, però ve l'ho detto, noi abbiamo fatto un setup a cinque, e in una partita da cinque giocatori, ciascun giocatore dalla riserva comune qua giù, che sono monete e risorse, prende otto monete, quindi questa qui è la riserva di partenza. Ora, bisogna stabilire che sarà il primo giocatore, e per stabilirlo ciascuno, ovviamente le monete tenetevele nascoste dalla vostra parte del tavolo, ciascun giocatore fa una puntata segreta, posso puntarne una, posso puntarne due, posso puntarle anche tutte, che non mi conviene perché quando spendete monete in questo gioco vanno buttate sempre nella riserva comune, ah ragazzi ce lo vedete un pochino piegate perché andrebbe un attimino risistemato, però va bene, tanto penso che si veda tranquillamente, quindi ciascun giocatore fa una puntata, il giocatore che ha fatto la puntata più alta inizia per primo, quindi si fa una volta sola inizio partita sta cosa, quindi il primo giocatore che sarà sarà il primo giocatore in tutti i turni successivi, e ovviamente poi dopo si segue in senso orario, quindi il primo giocatore è quello che ha fatto la puntata più alta, e poi si va in senso orario, il secondo, il terzo e così via. Poi da questo mucchetto di carte qua giù ne dovete sempre pescare 6, perché vedete qua su in cima c'è scritto un costo per le 6 carte che andremo a destrare, quindi da sinistra a destra le carte pescate costeranno 0, 1, 1, 2, 2, 3, ovviamente è il costo in monete che dovete utilizzare, è un gioco molto semplice, quindi ne andiamo a girare, questa costerà 0, questa costerà 1, questa costerà 1, questa costerà 2 e così via, seguendo l'ordine che c'è qui da sinistra a destra, 0, 1, 1, 2, 2 e 3. Per ogni turno, partendo dal giocatore iniziale, quello che ovviamente ha l'iniziativa, dovrà prendere una di queste carte qua giù in fondo, e a seconda di quella che comprerà nella posizione da sinistra a destra, dovrà pagare il costo, quindi magari io vado a prendere questa carta qui, questa qua giù, e essendo quella la prima qui la pago 0, se avessi preso questa l'avrei pagata 1 e così via, tutti gli altri giocatori fanno lo stesso, però prima di fare questa azione qui, cioè il primo giocatore che la va a prendere la leva, tutte le altre scalano, ovviamente verso sinistra, e ne dovete andare a pescare direttamente un'altra che mettete qui. Ciascuna carta darà sempre una merce e un'azione. Le merci servono per il conteggio a fine partita, ovviamente danno punti, l'azione che vedete in fondo, è quella sempre nella pergamena in fondo a un basso, quella invece va risolta immediatamente. Una carta del genere, vi faccio vedere questa per descrivervelo un po' veloci, vi dice, a parte la risorsa che pescate, ah, quando prendete una carta ovviamente mettetela a faccia in su dalla vostra parte del tavolo, comunque vi dice cosa potete fare all'azione in fondo, e questa qui ci dice che possiamo piazzare due armate del nostro colore, quindi altri due cubetti verdi, nella zona di partenza, nella regione di partenza, quindi qui, o in una qualsiasi regione dove abbiamo almeno una città. Quindi nel caso potrei metterne una qui e una qui, oppure potrei mettere tutte e due qui, o tutte e due qui, o nel caso avessimo più città in giro per la mappa, potrei metterne una qui e una qui. Quindi una carta del genere ci dice che possiamo muovere il numero di armate elencate sotto via terra, quindi ovviamente spostarla da qui a qui è un movimento. Possiamo o muovere sei armate, o per dirla più breve, abbiamo sei movimenti, quindi possiamo giostrarceli come ci pare, posso muovere sei armate di uno, oppure posso muovere anche la stessa armata di sei volte. Ovviamente potete spostarvi da un continente all'altro, spostandovi solo sulle rotte commerciali, le rotte via mare, queste qui, quindi queste che vedete segnate, tratteggiate, vuol dire che io da qui mi posso spostare qui, però da qui non mi potrei spostare qui, prima dovrei andare qui, poi qui e poi ti potrei tramite il porto andare nella costa di là. Spostamento via terra e o via mare, quindi questa qui quando c'è la nave vuol dire non solo che vi potete spostare via mare, ma vi potete spostare anche via terra. Quindi la carta prima mi dava la possibilità di spostarmi di quanto volevo via terra, questa carta qui mi dà la possibilità di spostarmi via terra, e via mare, quindi con quella di prima non posso fare la traversata, con questa invece posso fare anche la traversata, ed ho tre movimenti. Costruisci una città in una zona dove hai almeno un'armata, quindi se io volessi costruire una nuova città, leviamo questa qui, la posso costruire solo in zone, a parte quella di partenza, la posso costruire solo in zone dove ho almeno un'armata, quindi qui, vabbè, c'è già, se avessi un'armata qui perché ce l'ho spostata, potrei fare una città qui, o prendendo quello che è appena andato nell'altro continente, l'altra armata, potrei costruirla qui. Quando vedete un cubettino barrato, vuol dire che potete distruggere un'armata qualunque sul tabellone di un nemico, quindi magari se c'è un'armata di un nemico qua giù, voi con questa azione la potete direttamente distruggere e andare a togliere. Quando ovviamente su una carta vedete una barra, vuol dire che potete fare l'azione di qua, o l'azione di qua. Qui nel caso posso o distruggere un'armata o costruire una città, sempre con le regole di prima, o aggiungere due nuove armate dalla mia riserva, oppure spostarne tre esistenti. Sia chiaro, eseguire un'azione non è mai obbligatorio, potete comunque anche prendere la carta, tenerla in mano dalla vostra parte del tavolo, ma non eseguire l'azione. Comunque pescare e comprare, quello dovete sempre farlo. Al solito, quando comprate carte, questo lo fate scorrere, fino a che non andate a rimetterci le sei che vi chiede il gioco. Quindi ce ne devono sempre essere sei. Il gioco, ragazzi, praticamente spiegato, è tutto qui. La partita termina quando ciascun giocatore ha sette carte, di quelle comprate al negozio generale per tutti, quando un giocatore ha sette carte nella propria mano, la partita termina. Si procede direttamente alla conta di punti. Si guadagnano punti per ogni regione conquistata, le regioni sono queste qui, le varie caselle dove potete mettere le armate, e ovviamente controlli una regione se c'hai più truppe o più città, ovviamente in quella regione. Quindi nel caso questa regione qui sarebbe conquistata e controllata dal rosso, se ci fosse soltanto un verde, sarebbe conquistata e controllata dal verde. Se ci fosse un verde e un rosso, non sarebbe conquistata da nessuno. Dovete avere la superiorità. Si guadagnano punti vittoria per ogni continente che si controlla, e poi si guadagnano punti vittoria per ogni set di merci. Quelle figure che avete visto qua su in cima che avete guadagnato semplicemente giocando ciascuna delle vostre carte, e si guadagnano punti per i set. Per fare la conta, ovviamente, le combinazioni delle varie risorse, andate a leggere sulla carta, che ne so, vi dice, se avete un albero, prendete due punti vittoria, se avete due alberi, ne prendete quattro, c'è sempre segnato, se avete un set di tre alberi, prendete cinque punti. Qualcosa di più alto, di più alto valore, potrebbe essere tipo il cibo, vedete qua su, raffigurato con la carota. Se avete una carota, prendete tre punti, se avete due carote, ne prendete cinque, se ne avete tre sette, e così via. Quindi, ragazzi, non è un gioco veloce, di più. L'unica cosa, dovete stare attenti a come spendete le monete, perché una volta spese tu, se uno, ad esempio, all'inizio del gioco ne punta quattro per essere il primo di turno, e poi ti vanno a scarse già a mano, perché in una partita a cinque giocatori, ce ne avete otto in mano. Quindi, occhio, perché una volta le monetine finite, a parte di andare nel cumulo, nel mucchio in comune, dovete calcolare bene. Allora, è un gioco che, ovviamente, non ha un grande spessore logistico, e strategico, perché è soltanto piazzare nel punto giusto, al momento giusto, e l'azione che potete andare a fare per sabotare, perché non c'è una vera e propria guerra delle armate, l'azione che potete fare per andare a sabotare, è quella con il simbolino, vedete, del cubettino barrato, che vuol dire che potete andare a distruggere una truppa in qualsiasi parte del tavolo. È un gioco facilissimo, è un gioco che può giocare chiunque, è un gioco che davvero ci vuole, ma nemmeno 30 secondi a spiegarlo, e soprattutto, è un gioco che lo può usare per tutto, anche per fare uno spareggio. Alle volte, quando siete lì, magari che avete fatto una partita, un videogioco, secondo me, ci può stare, o anche semplicemente c'è una questione in bilico, e vi manca proprio la bella, come si dice a Livorno, la partita che dia ragione a uno all'altro, potete anche dire, oh, sai che c'è? Ci si fa una partita a 8 minuti per un impero, perché è talmente veloce, ragazzi, come gioco, che poi tra l'altro si può giocare, questa è un setup a 5, ma in 2, io penso, l'ho giocata in 10 minuti, perché è giocata in harta per 1, quindi è fatto, è finito velocemente, si fa presto arrivare ad avere tutte quelle carte lì in mano, e quindi è un gioco facile, veloce, fresco, piccolo, tascabile, quindi ve lo potete portare ovunque, classico gioco, anche se non è da spiaggia, da mare, anche perché non c'ha tantissimo contenuto, a parte i token delle monete e delle risorse, però non c'ha tanto contenuto, e quindi alla fin fine ve lo potete portare tranquillamente dietro e non rischiate nemmeno di perdere tanto, non c'è nemmeno da tirare a dadi, quindi mettete il tabellone e ci giocate ovunque, è piccolino, e secondo me si merita tranquillamente un bel 7 su 10, perché è bellino, poi ovviamente dal costo ridotto, e soprattutto la parte più importante di questo gioco è la rapidità, ovvio, dovete stare, non è un gioco stupido, un po' di tattica ci vuole, dovete andare a pensare dove andate a mettere, anche perché se non nella conta dei punti finale poi avete perso in questo gioco anche per un misero punto si va a perdere la partita, quindi è un gioco secondo me che ci devi calcolare un pochino, però comunque è un gioco leggero che non te la fa pesare, una partita può magari tirar l'altra, quindi un 7 su 10 è meritatissimo, e ancora una volta ringrazio la DV Giochi per avermi offerto questa copia per la recensione, e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate, primo link in descrizione dove acquistarlo, direttamente dal sito della DV Giochi, e poi a seguire sotto tutti quanti i nostri social, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, ciao ragazzi, alla prossima!